Bill Gates, il personaggio più famoso della Microsoft Corporation, uomo di filantropia totale, pensate che è stato presente ieri in collegamento con Fabio Fazio al programma intitolato Che Tempo che fa. Ieri era il 21 febbraio 2021. Bill Gates ha parlato, si è aperto a 360 gradi, ha parlato di computer, di informatica, della rivoluzione che proprio il mondo del computer, il mondo informatico ha avuto. L'idea di avere un computer in ogni piccola scrivania ma in ogni anche tavolo era probabilmente un'idea considerata scellerata da passi ma in realtà poi si è verificato tutto ciò grazie a lui. Grazie a Windows, Microsoft Windows, il sistema operativo che tutti penso conoscono molto bene, che tutti hanno utilizzato almeno una volta nella loro vita, nella loro esistenza e soprattutto Bill Gates ha parlato di pandemia, la pandemia diciamo così avrebbe detto è come il clima, no? E proprio di pandemia, parlando di pandemia, non si può non dire che bisogna avere bisogno di salvare i paesi poveri, non soltanto quelli ricchi, quindi Bill Gates è concentrato nel far capire a tutti che sì, bisogna salvare tutti ma non soltanto quelli che sono i paesi che a livello economico stanno bene, i cosiddetti nobili, i paesi nobili, i cosiddetti paesi benestanti, ma concentrarsi a salvare tutti e soprattutto attuare, realizzare, compiere un piano vaccinale che sia alla portata di ogni essere umano e che sia all'altezza di ogni situazione. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, io ho riassunto in maniera molto stringata, sintetica, ma auspico efficace, le parole di Zio Bill Gates, patrono della Microsoft Corporation. Ciao a tutti, da Leandro, narratore italiano.